Eccoci qua ragazzi con l'hotel ai biscotti Terza parte Nutella ai biscotti Buono Opinioni a freddo Eh? Opinioni a caldo Opinioni Opinioni? Dai è buono Andiamo a Vai buono Ultimo giro signori Ultimo giro ragazzi Ultimo giro E prima che ho mangiato tutto Metà? No Se ne sa Ketchup Come ketchup? Quasi? E' proprio qui Strontano sul ketchup Che bello Non te Già fatto Cioè perché è peccato? Filoppo d'acero? Eh? E qua E cioccolato Già fatto lui no? Già fatto Sì Saccottino Che buono Che buono Che culo Ci vediamo un po' Che culo Si sta facendo questo culone Saccottino Nutella? Saccottino Nutella Io sto sono sguatra Dammi il cucchiaio Vado Dammi sto cazzo di cucchiaio Guarda Vediamo il linguaggio Vabbè Te la finisci dentro Bisogna sempre usare una spugnetta con le quali se fosse eh Saccottino Povera spugnetta con le quali non muovono Nemmeno Cazzo Cazzo E' nutella, devi girare. Nutella E? Un sacchettino già fatto, vai. Già fatto. Nutella E? Formaggio? Madonna. Nutella E formaggio? Com'è? Fa cagare. Buono? No, fa cagare, dai. Che schifo. Andiamo avanti, conduccio. Ora, perché va a me girare la ruota dei schifezzi. E che è? E no, il cioccolato da culo. Cioccolato, cioccolato. Oh, che culo. Cioccolato e ciroppodacero, già fatto. Ciroppodacero e... Biscotti, ciroppodacero e biscotti. Ciroppodacero e biscotti. Oddio, che culo. Che bontà. Che culo. Io mi sai che sono stato quello con più...